Buongiorno, io mi chiamo Antonella Roetto, sono una biologa genetista, lavoro presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Biologiche dell'Università di Torino. Alla notte dei ricercatori saremo presenti nel cortile del Museo Egizio con uno stand intitolato Le proprietà geniali del DNA. Il DNA è una macchina geniale nel vero senso della parola perché è costituita da geni che sono piccoli frammenti di DNA che racchiudono in sé tutte le informazioni necessarie per la nascita, lo sviluppo di ogni essere vivente e la sua interazione con l'ambiente circostante. Ditemi voi se tutto ciò non è geniale. Il DNA non dorme mai, i geni che lo costituiscono si attivano e disattivano in continuazione e come chi è molto attivo spesso rischia di farsi male, anche il DNA può subire dei danni che vengono denominati mutazioni. Quando questo succede non preoccupatevi troppo, certo noi siamo spesso abituati ad associare il concetto di mutazione al concetto di malattia, ma questo non è sempre vero. Pensate che il DNA umano ogni giorno subisce un numero incredibilmente alto di mutazioni di cui nessuno si accorge. Perché? Perché esiste una macchina efficiente di riparazione del DNA stesso. Mutazione vuole anche dire evoluzione. Non ci saremmo evoluti dai nostri progenitori ancestrali se non grazie a mutazioni che sono intervenute casualmente nel nostro DNA. Se verrete a trovarci approfondiremo ulteriormente questi argomenti e per coloro che vorranno ci sarà la possibilità di portare a casa un piccolo ricordino personalizzato. Vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!